Ciao a tutti, sono Vincenzo, 32 anni e sono un insegnante di italiano per stranieri a scuola e online. Che cosa dico su di me? Beh, innanzitutto sono un grande amante della letteratura, ma soprattutto delle lingue straniere. E infatti per questo motivo mi sono laureato in lingua e cultura inglese e spagnola all'università, materie che poi ho insegnato privatamente a studenti delle scuole superiori per circa 10 anni. La mia vera passione però è sempre stata la lingua e la cultura italiana ed è per questo motivo che adesso mi dedico all'insegnamento di entrambe a studenti stranieri. In che modo posso aiutarti? Con me possiamo in pratica fare ciò che più preferisci. Il mio tipo di insegnamento è totalmente dedicato alle esigenze dello studente al 100%. Possiamo per esempio approfondire la grammatica, possiamo dedicarci alla scrittura, alla lettura e comprensione di testi, alla pronuncia, oppure, cosa che preferisco, possiamo dedicarci alla conversazione. Perché penso che la conversazione sia uno dei modi più efficaci e più naturali per imparare una lingua. Per quanto riguarda il mio metodo, sono una persona molto scrupolosa, attenta, ma soprattutto paziente alle esigenze di ogni studente. Insieme possiamo strutturare il programma migliore per te. Sia che tu voglia imparare l'italiano per piacere, sia che tu voglia imparare l'italiano per superare uno specifico esame. Bene, se ti interessa studiare insieme a me, non ti resta che prenotare una lezione. Io ti aspetto. Ciao!